Lalle, sai, questa sera mi sono sognata di giocare con delle fotine magiche. Wow, come le erano fatte? Erano belle, colorate e con le ali glitterate. Wow! Wow, Giulia, guarda! Ma erano le Whittles? Sì, sono bellissime! Sono proprio queste? Sì, sì! Wow, bellissime! 3, 2, 1, go! Buon giorno, ragazzi! Oggi siamo ritornati qui con un nuovissimo video, con un nuovissimo pacco gigante, con una nuovissima location. Ragazzi, ebbene sì, sono arrivate le Whittles, che appunto vengono prodotte dalla De Agostini, che è una macchia stupenda. Allora, Giulia, prima di aprirle, ti voglio fare un'interrogazione. Beh, all'interno di quella bustina che andremo ad aprire, esce anche una sorpresina. Qual è? Qual è? Un anello con una sorpresa! Wow! Sono stupende! Già, con l'anello, le Whittles, le nani, che per sé sono stupende. Quindi direi solo di aprirle, perché le voglio assolutamente aprirle. E ragazzi, Giulia, anzi, no ragazzi, Giulia, un'altra interrogazione. Quante ne sono? 12! Troppo belle! Tutte 12 bellissime! Tutte da collezionare, secondo me, per il mio parere. Dai, Giulia, sfogliamo un po' il magazine. Ok, andiamo. All'interno c'è anche un gran fumetto. Bello! E poi ci sono pure dei giochini. Wow! E poi c'è anche la collezione completa. E poi c'è... E poi c'è la magia del bosco. Wow, veramente! E anche un quiz per sapere come tu conosci gli animali. Quindi bellissimo. Dai, Giulia, non vedo l'ora di aprire queste Whittles. Andiamo! Oh, Dio! Che carina! E' uscito l'anello segreto. Ed è uscita lei, che è ovviamente Shirley. Guardate qui quanto è carina. Cioè, è stupenda. Guardate le ali e guardate, lei è stupenda. Vado io? Ha i capelli celesti turchesi e le ali, le aglitterate. Fuccia. E si possono anche piegare. Guardate, guardate così. Sono stupende e così. Bellissime! E allora, prima di tutto, è uscita lei, troppo carina. Ma io vorrei sapere cosa c'è dentro a quest'anello. Lo posso aprire? E lei si chiama... Vediamo, Maisy! E' troppo bella e poi esce l'anello. A me lo so, più sparente! E a me è biava! Dai Giulia, io sono troppo felice e voglio aprirla. Quindi vai! Andiamo! C'è il l'angelo... Il l'angelo... Il l'angeloci da labbra! Perché in questo momento, quando si esce, ci può venire l'epes. Allora noi, a portare di manaccio l'angelo, l'angelo. Guardate, e poi... Odora! Odora un sacco! Odora? Odora! O di fragola o di maniglia! Mettiamocelo! E guardate, è anche glitterato! E così! Stato glitterato! Sì! Sono poca di lì! Mettiamolo! Con questo freddo ci vuole sempre un po' di luce da labbra! Sì! E stiamo! Perchè! Partire! Buon rinduci! Buon rinduci! Facciamo! Tu vuoi managra! ook! Pu rho! Buon rinduci! Tra la la wonders! Perchè! Ragazzi, qui con noi abbiamo Vanilla, poi abbiamo Emily, poi abbiamo Oriel, dopo ancora abbiamo Grace, ancora dopo abbiamo Millie, guardate quanto caino, poi abbiamo Kelly, ancora dopo abbiamo Indovinate, 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 è molto bella, è molto cara, è molto caro, Abigail, molto carina, molto sistemata, molto mua, poi abbiamo lei che si chiama la carissima, carissima Indovinate, no, abbiamo la carissima Shirley, lei, poi abbiamo questa gialla d'età, la piccolina, poi ho detto no, 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 lei quanto è carina questa qui, Maisie, poi abbiamo lei, lei, lei come è carina, abbiamo Avery, Avery, poi abbiamo Lily e infine abbiamo lei che si chiama, Indovinate, Abby! Grazie a tutti! Ragazzi, la mia patina preferita è lei, Emily, è troppo bella mentre dorme, è troppo carina, e ha le ali, e dorme su un fiorellino, ed ha le ali oro, ed è anche molto grande, cioè, non so se si vede dalla telecamera, dal video, come volete dire, però sono veramente grandi, sono un bijou, come è carina, e poi dorme appunto su un fiorellino, ed è troppo carina, ed è troppo carina, e io indosso anche un bel anellino con lucida labbra dentro! Mmm, aspettate! Ah, è giallo, è giallo, è reglitterato, come bello! La mia preferita, che sta nel mio cuoricino, è vanilla, troppo bella con le ali tutte glitterate, verde acqua, scuro, e mi piace, ho due anelli, da tutti e due vignoli, e questo è di vanilla, questo qua verde, e questo è di un'altra guzzola. Ragazzi, vi invito a collezionarle tutte, giù nei commenti, iscriveteci con l'hashtag De Agostini, e hashtag Whitsiland, che si scrive Whitsiland, Vabbè, poi già l'avete visto comunque nel cartello, cioè nello scatolo, quindi penso di sì, commentate con questi hashtag, e scrivete a che state con la collezione, quante ne avete, e la vostra preferita, quindi veramente sono bellissime, sono fatte benissimo, sono spende, quindi che dire? Ragazzi, perché dovete commentare con hashtag De Agostini e hashtag Whitsiland? Perché appunto ci aiutate a vedere i vostri commenti e magari anche risponderli, aiutateci e quindi mettete questa hashtag. Ragazzi, si trovano appunto in edicola a 3,50 euro, e sono stupende, ma stupende, ma di quelle stupendose, stupende proprio, e quindi vi invito solo a collezionarle, come si dice, o io sono più persa, non sto giocando, a collezionarle, perché sono stupende, quindi con la hashtag De Agostini e hashtag Whitsiland, aiutateci a vedere i vostri commenti e scrivete appunto la vostra preferita, quella che avete, quella che state collezionando con le altre, e quante ne avete, tra le tutte, quindi bellissimo, sono stupende, quindi che dire, 3, 2, 1, 2, quindi ragazzi, questo era il video, spero che sia piaciuto, aver piaciuto tantissimo, iscrivetevi a Instagram, Marghe Giulia Kawaii, trattino basso, official, su Facebook, Marghe Giulia Kawaii Real, sul secondo canale, Maggi TV, su Musical.ly, che ho c'è la Marghe Giulia Real, su, 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 no, già l'ho detto, già l'ho detto tutto, se volete le maglie, le cover, le tazze, andate su www. Marghe Giulia Kawaii.it, se il video vi è piaciuto, lasciate like, quindi spolliciate tantissimo, commentate appunto con gli hashtag che vi ho detto, e condividete il video un po' dappertutto, e iscrivetevi al canale, se non mi è piaciuto, shhh! iscrivetevi al canale, grazie a tutti!